Com'è? È schifo Ti ho messo l'ora che fa schifo Allora aspetta Ah questa è una battuta che Tirci tutte e due così Perché è una battuta che Faccio solo io purtroppo Sì è abbastanza Quella dei pasti Cioè cara sai Sono andato dal dottore E mi ha dato una dieta E lei dice ma che dieta ti ha dato? Mi ha detto che devo mangiare Una fettina di carne Quanto è? 50 grammi Quanto ci posso mettere? Una fettina di carne Un etto di riso E una fettina di carne Va bene così? Un etto di riso e una fettina di carne Allora dove sto problema? Eh È che non mi ricordo se prima o dopo i pasti Ha capito? Ok vai Come sei? Sono andato dal dottore Ah ma che t'ha detto? Eh ha detto che mi devo mettere a dieta E infatti mi ha scritto una dieta Sì Sì Devo mangiare un etto di riso E 50 grammi di carne Ti vedo un po' pensando Dov'è il problema? Questo Sai qual è il problema? Che non mi ricordo Se prima o dopo i pasti Può andare? Eh? Va bene? Ma perché la gente? È che non mi ricordo